Il porto commerciale di Pescara sta morendo, basti pensare che l'ultima nave cisterna è attraccata nel 2016, una situazione paradossale che ha messo in ginocchio le attività collegate allo scalo portuale pescarese che per ripartire avrebbe bisogno di un dragaggio urgente e dei lavori relativi al piano regolatore portuale. E intanto le ditte danneggiate dal fermo delle attività aspettano ancora il 50% dei ristori previsti dalla legge regionale 44 del 2016. Anche le opere previste dal piano regolatore non porteranno alla ripresa del traffico merci o passeggeri del porto di Pescara perché qui l'unica cosa che va fatta con estrema urgenza è un dragaggio perché le banchine commerciali, la banchina in riva, la banchina in levante attualmente avranno sì o no un pescaggio di un metro, un metro e mezzo. Quindi capiamo benissimo che è impossibile l'ingresso e l'uscita da qualsiasi unità navale destinata o al traffico merci o al traffico passeggeri. Nelle settimane scorse si era paventato il ritorno di un collegamento con la Croazia ma in questo stato di cose, in questa situazione è possibile parlare di nuovo collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico? No, non ci sono assolutamente né le condizioni logistiche e dobbiamo considerare anche che istituire un collegamento passeggeri comporta tutta una serie di procedure dal punto di vista della security che qui a Pescara andrebbero rifatte da zero anche perché adesso c'è la competenza dell'autorità di sistema portuale che fa capo ad Ancona, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale e quindi dovremmo anche sperare in una rapida attuazione di queste procedure e sono i piani di sicurezza che vanno rifatti quindi assolutamente non è proprio pensabile che quest'estate si possano riprendere collegamenti passeggeri per la trasponda dell'Adriatico o per qualsiasi altra destinazione internazionale.